Scene da film sul tratto pescarese dell'A14, un commando armato ha tentato l'assalto a un portavalori, fallito il colpo grazie all'intervento della stradale, lunghe code e fumo sulla carreggiata, a Ortona, vasto incendio in un'azienda. Due incidenti in poche ore tra Abruzzo e Molise ad Alvadriatica, ferito un 17enne dopo lo scontro tra il suo motorino e un'auto a Sesto Campano, impatto autotir, perde la vita un 74enne di vietri sul mare. Fratelli d'Italia piglia tutto in consiglio regionale, proclamati nelle scorse ore gli eletti e c'è pure Aida Romagnolo, intanto lo sconfitto gravina, si prepara a guidare l'opposizione. Servizi sanitari sotto casa per agevolare i residenti delle aree interne e delle periferie, parte Abruzzo in salute, il camper attrezzato alla prevenzione, per l'Alto Vastese l'assessora Veria annuncia nessun taglio. Avio superficie del Molise, il progetto è entrato in una fase definitiva e i lavori devono essere ultimati entro il 2024, dicono i promotori. Stop alle truffe, 40 anziani diventano sentinelle contro i malfattori, insegniti del ruolo in prefettura. Infine lo sport il calcio, Alessio Rasi è ufficialmente un nuovo giocatore del Campobasso, a Monte Silvano grande successo per la tappa gold dei campionati di beach volley. Ben trovati a tutti voi, nuovo appuntamento con le news di Teleregione, lo avete sentito, autostrada 14 paralizzata nel tratto pescarese perché stamattina un commando di malviventi armati ha tentato l'assalto a un portavalori. Lunghe code, disagi, fortunatamente non ci sono feriti nonostante siano stati esplosi in aria dei colpi, ma sentiamo tutto. Attimi di paura e scene da film lungo il tratto pescarese dell'autostrada 14 tra i caselli nord e ovest della città abruzzese. Auto incendiate, banditi che sparano colpi e che fuggono, code interminabili di auto e sirene delle forze dell'ordine. Tutto tra una folla di automobilisti sotto shock. Erano circa le 7 del mattino quando un commando armato ha tentato l'assalto a un furgone portavalori. Sulla base di quanto ricostruito inizialmente, il mezzo sarebbe stato bloccato da un'auto che lo precedeva. I malviventi sono scesi con in braccia dei fucili, questo quanto avrebbero raccontato alcuni testimoni. Sono stati esplosi dei colpi che solo fortunatamente non hanno ferito nessuno, ma che pare abbiano centrato un altro furgone in transito sulla carreggiata opposta. Un mezzo della sicurezza privata, alla cui guida c'era un dipendente che è stato colto da malore. L'intervento della polizia stradale ha evitato che l'assalto riuscisse e i malviventi, dopo aver incendiato tre auto, sono scappati. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, il personale di autostrade per l'Italia, i mezzi del 118 giunti con l'eliambulanza e un'autoambulanza della misericordia. Code di auto per tutta la mattinata. Un vasto incendio ha coinvolto la Ecotec di Ortona per l'estinzione dei focolai nell'azienda che si occupa di trattamento dei rifiuti. È stato necessario impegnare tre squadre dei vigili del fuoco giunte dalla sede centrale e dal distaccamento locale. Le fiamme hanno coinvolto il deposito esterno di rifiuti, sono state controllate prima che si propagassero al fabbricato che è destinato alle lavorazioni. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Ortona, insieme all'assessore alla protezione civile. Di intesa col funzionario dei vigili del fuoco hanno attivato i tecnici dell'azienda regionale per la tutela dell'ambiente. Dopo i primi rilievi sui prodotti della combustione, i tecnici dell'Agenzia di tutela ambientale hanno segnalato la necessità di tenere le finestre chiuse. Hanno raccomandato di non raccogliere frutti e ortaggi nelle zone di Contrada Tamarete, in Contrada Fonte Grande, Villa Grande, Villa Deo, Villa Pincione e Villa Carlone di Ortona. Tragedia sulle strade del Molise. Ieri a Sesto Campano ha perso la vita in seguito allo scontro tra un'auto e un tir un uomo di 74 anni di vietri sul mare. Sentiamo Stefania Potente. Strade molisane ancora una volta insanguinate. Un uomo di 74 anni originario di vietri sul mare in provincia di Salerno ha perso la vita oggi pomeriggio sulla statale 85 Venafrana. Intorno alle 15 in territorio di Sesto Campano il tragico impatto tra la vettura guidata dalla vittima del sinistro, una Opel Corsa e un camion. Per il 74enne non c'è stato scampo dopo l'impatto contro il mezzo pesante, il leso, il suo conducente. Nel sinistro un frontale secondo le prime ricostruzioni è rimasto coinvolta anche una seconda vettura, una Fiat 500 guidata da un ragazzo della provincia di Sernia che non ha riportato ferite ma era in stato di shock, secondo quanto si apprende, dai soccorritori giunti prontamente sul posto. L'ambulanza del 118, i carabinieri, la polizia stradale, la squadra di volontari, dei vigili del fuoco, l'ANAS. Davanti ai loro occhi uno scenario terribile, la Opel Corsa accartocciata, pezzi di vetro e di lamiera sparsi ovunque sulla carreggiata. Chi invece percorreva la statale 85 ha trascorso un pomeriggio nero? La strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso e si sono formate lunghe file di auto e mezzi pesanti. Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 17 anni che nel pomeriggio di ieri ad Alba Adriatica è stato coinvolto in un incidente stradale in via Toscana. Il giovane che era in sella ha un motorino per cause che sono ancora in corso di accertamento. Si è scontrato con una Fiat 500 sul posto immediati i soccorsi della Croce Rossa del 118 con un elissoccorso che è partito dall'ospedale di Pescara e dove al momento il ragazzo si trova ricoverato. Ancora da chiarire però l'esatta dinamica di quello che è accaduto, questo scontro tra i due mezzi, tra via Lombardia e via Toscana ad Alba Adriatica. Ci occupiamo di politica, c'è stata dopo diversi giorni la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale, c'è stata una novità, la sorpresa Ida Romagnolo che quindi torna a Palazzo Daimmo. Inizialmente c'era stata la designazione di Dipardo che invece non c'entra l'elezione. Sentiamo tutto. Nella lista regionale avendo il contrassegno Fratelli d'Italia, la quale spettano il numero 5 seggi, i signori Salvatore Micone, Vincenzo Quintino Pallante, Armandino De Giglio, Angelo Michele Iorio, Aida Romagnolo. È questa la sorpresa della proclamazione degli eletti che si è svolta in corte d'appello a Campobasso. Al termine delle verifiche dei verbali e dei dati delle elezioni del 25 e 26 giugno sono stati assegnati 5 seggi a Fratelli d'Italia, uno solo alla lista del presidente Francesco Roberti, noi moderati. In pratica in Consiglio regionale entra Aida Romagnolo, mentre non ci sarà Roberto Dipardo, sindaco di Petacciato ed ex presidente del Cosib che starebbe pensando di presentare ricorso. La tredicesima legislatura dunque inizia con un colpo di scena. 13 eletti nella maggioranza guidata dal presidente Francesco Roberti, assente in tribunale per la proclamazione. Il partito di Giorgia Meloni ha eletto Salvatore Micone, Quintino Pallante, Armandino De Giglio, Michele Iorio, oltre alla Romagnolo. Per Forza Italia entrano Nicola Cavaliere, Andrea Di Lucente e Roberto Di Baggio. Per i popolari Vincenzo Niro, per il Molise che vogliamo Stefania Passarelli e Gianluca Cefaratti, Fabio Cofelice per noi moderati, Massimo Sabusco per la Lega. Sette seggi alla minoranza, oltre al candidato presidente sconfitto Roberto Gravina, entreranno a Palazzo d'Aimmo tre consiglieri del PD, Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli e Alessandra Salvatore, due per il Movimento 5 Stelle, Andrea Greco e Angelo Primiani, e Massimo Romano per costruire democrazia. Il prossimo 24 luglio, il primo Consiglio regionale. Il candidato presidente sconfitto Roberto Gravina è pronto a guidare l'opposizione in Consiglio regionale. Oggi ha incontrato i giornalisti per anticipare i temi di quella che sarà la minoranza, dell'agire della minoranza e poi si è espresso anche sul crollo del Movimento 5 Stelle. Anche se dai banchi dell'opposizione, il Consiglio regionale cercherà di portare e di far approvare insieme ai colleghi del centrosinistra, che lo hanno sostenuto alle regionali, i provvedimenti previsti nel programma elettorale. Roberto Gravina, il candidato presidente sconfitto del campo progressista, traccia la strada del lavoro da portare avanti a Palazzo d'Aimmo. Bisogna cambiare passo, dice i giornalisti che incontra il giorno successivo alla proclamazione degli eletti. Gravina resterà nel gruppo che porta il suo nome per dare continuità ad un progetto iniziato un mese prima delle elezioni. Non guiderà più il comune di Campobasso perché è incompatibile e poi delineano a prima priorità per il nuovo governatore Francesco Roberti. Ci auguriamo che l'assessorato alle politiche sociali abbia una dignità importante e non sia marginale, anche perché il Molise è una regione molto povera. Sarà un'opposizione come è normale che sia di controllo, di vigilanza, attenta e soprattutto porteremo quei temi che già sono scritti nel nostro programma e che speriamo davvero possano trovare forza nella politica della maggioranza. Gravina, che 6.500 elettori hanno votato scegliendo unicamente il suo nome, analizza il risultato negativo del Movimento 5 Stelle. Ma ha perso per una serie di ragioni, con una differenza così importante e soprattutto con 5 anni di legislatura regionale noi ci saremmo aspettati di discontinuità da parte degli elettori. Nei giorni scorsi, poi dopo la sconfitta elettorale, ha avuto modo di confrontarsi anche con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. È un risultato che fa riflettere ovviamente non soltanto per la regione Molise ma a livello nazionale e quindi questa consapevolezza c'è, ognuno di noi evidentemente ha degli errori e delle responsabilità. Parliamo ora del raddoppio ferroviario Pescara-Roma perché dal Tar Lazio è arrivata la sospensiva per il progetto, si apre quindi una fase di confronto concreto su quest'opera. Non vogliamo fermarla, dicono dal Comune di Chieti, ma vogliamo che sia davvero utile, che non ipotechi il nostro territorio. Ci racconta tutto. Samantha Ciarla. Raddoppio ferrovia Pescara-Roma. Il comitato CONFER, che chiede l'annullamento di tutti gli atti del progetto per i lotti 1 e 2, ha ottenuto la sospensiva al Tar del Lazio. Il ricorso era stato presentato nei confronti di RFI e Italfer e contro 5 ministeri, Presidenza del Consiglio, Soprintendenza e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Al centro il percorso della nuova ferrovia e il suo impatto sui comuni di Manoppello e Scafa. Accolto anche il ricorso del Comune di Chieti. L'udienza di merito è fissata l'8 novembre a Roma. Una notizia attesa, ma che non è ancora la decisione definitiva sul nostro ricorso, così il Sindaco Diego Ferrara, il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo e il Presidente della Commissione Consiliare sulla Ferrovia Vincenzo Ginefra, comunque soddisfatti per l'attenzione che i giudici amministrativi hanno deciso di dare alle loro istanze, non ritenendole infondate come si legge nel dispositivo dell'ordinanza. Il ricorso nasce per dare voce ai tanti e ragionevoli dubbi relativi all'impatto del progetto sul territorio, ricorda il primo cittadino di Chieti, Diego Ferrara. Gli abbiamo messi nero su bianco perché fosse data una possibilità ai cittadini al Comune di avere una risposta super partes per un'opera di cui non neghiamo l'utilità, ma che va temperata alle esigenze della popolazione e del territorio su cui si innesta. Si apre ora una fase di confronto concreto sull'opera e sulla sua fattibilità. Non vogliamo fermarla, dicono, ma vogliamo che sia davvero utile e non ipotechi il nostro territorio. Raggiungerà ben 200 comuni della Regione Abruzzo il camper della salute che oggi ha fatto il proprio esordio davanti alla sede della Regione a Pescara. E c'eravamo anche noi. I servizi sanitari a un passo da casa, nel vero senso della parola, è l'ultima iniziativa targata a Regione Abruzzo, presentata nell'area antistante alla sede di Pescara, in Piazza Unione, dal governatore Marco Marsilio e dall'assessora al ramo Nicoletta Verì, un ambulatorio viaggiante che verrà allestito di volta in volta in punti prestabiliti, per lo più nelle aree più periferiche dei comuni, e che è dotato di tutta la strumentazione necessaria per controlli e screening che abbracciano vari campi della medicina. Tutto questo per dare un impulso maggiore alla prevenzione e per offrire all'utenza un'opportunità a portata di mano, considerando le richieste crescenti e le problematiche degli ospedali. Insieme al Presidente e all'assessora, il Direttore dell'ARIC, l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza Donato Cavallo, e i Direttori Generali delle quattro ASL abruzzesi. Il progetto è stato illustrato ai giornalisti, Abruzzo in salute, il nome che vede nella prossimità il suo punto cardine. È un progetto molto importante di cui siamo anche molto orgogliosi, non sono molti, forse siamo tra i pochissimi ad aver pensato di utilizzare i fondi del PNRR per un progetto simile. Il nostro territorio è caratterizzato da centinaia di piccoli e piccolissimi comuni, a loro volta suddivisi da decine di frazioni. Diventa difficile arrivare nei luoghi della salute, portiamo la salute più vicino con questo mezzo mobile. Restiamo a parlare di sanità, ma ci spostiamo nell'Alto Vastese, perché proprio l'assessora regionale Verì, nelle scorse ore ha incontrato i sindaci di quest'area, annunciando che non ci saranno tagli, non ci sarà alcuna chiusura. Sapete perché ve lo stiamo raccontando da giorni che si paventava addirittura la possibilità di tagli all'ospedale di Vasto, quindi è arrivato il secco no da parte della regione, che con l'assessora ha voluto fissare dei punti, proprio incontrando gli amministratori. E tra i temi trattati c'è anche la rimodulazione degli orari, del punto di primo intervento di Gissi, oltre che la carenza di personale. Si è parlato anche delle prospettive future, con un possibile incremento del personale, quindi dei concorsi che dovranno essere banditi per medici specialisti in medicina d'urgenza. Altri argomenti del summit sono stati l'incentivazione dell'accordo di confine col Molise per l'emergenza 118 nelle postazioni tra le due regioni, anche l'istituzione di un tavolo permanente di confronto tra l'azienda sanitaria e i sindaci. E ora parliamo di un altro progetto di cui si parla da anni e che, secondo i promotori, dovrebbe sorgere entro l'anno prossimo. È quello dell'aviosuperficie. Oggi c'è stato un incontro. Vediamo a che punto siamo. Ce lo dice ancora Samantha Charla. Il progetto definitivo dell'aviosuperficie del Molise c'è. Perché diventi realtà nel 2024 c'è bisogno ora di uno sforzo congiunto e della collaborazione tra pubblico e privato e soprattutto occorre intercettare i fondi del PNRR. L'argomento è stato al centro del convegno organizzato nella Sala della Costituzione di Campobasso che ha visto anche la proiezione di un video in 3D dell'infrastruttura che dovrebbe sorgere nel comune di San Giuliano del Sagno. Un'opportunità unica per l'intero Molise e per i giovani che lasciano la regione. Le parole del comandante Emilio Carosella che da anni segue il progetto e si batte per la sua realizzazione. Il progetto adesso è entrato in una fase definitiva per accedere anche ai fondi PNRR perché la terza missione del PNRR lo prevede trasporti e infrastrutture ecosostenibili. Questa è una struttura di 450.000 m2 ha una pista di 2.260 m, larga 45. Noi non faremo linea ma aviosuperficie, solo servizi e al massimo sarà voli charter. Il sogno di un piccolo aeroporto potrebbe dunque diventare realtà se si verificassero determinate condizioni. Qui stiamo parlando anche di una somma che se la guardiamo dal punto di vista del portafoglio umano 40-50 milioni fanno un po' impressione ma se lo guardiamo dal punto di vista opere pubbliche o pubblico privato è una somma bassissima. Quindi per accedere ai fondi ci vuole il privato e ci vuole il pubblico. Ma il tempo stringe. Siamo al limite, quindi l'aviosuperficie entro la fine 2024, massimo inizio 2025 deve essere realizzata assolutamente perché perdiamo il vero treno di questa regione. Un'opera strategica anche per il sindaco di San Giuliano del Sagno Rosario De Matteis. Un'aviosuperficie al di là del campanilismo insomma perché nel mio paese ma è importante averla l'hanno tutte le regioni il sito è un sito strategico ripeto perché è una posizione immediabile insomma a 15 chilometri dal capoluogo a 30 dai Serni a 40 da Benevento quindi ci sarebbe un ritorno economico non solo per il mio paese ma per l'Hinderland i paesi vicini ma ritengo anche per tutta la regione Molise Ci occupiamo ora di lavoro della crisi di questo comparto a Teramo proprio in questi giorni un'azienda ha dato il proprio stop alla produzione si tratta di un'impresa di Villa Zaccheo che eroga acqua sul territorio e intanto i metalmeccanici si stanno preparando allo sciopero che ci sarà tra qualche giorno un sit-in pacifico davanti alla prefettura tutti i dettagli da Chiara Bonatti E' partito oggi al nord lo sciopero nazionale dei metalmeccanici e proseguirà al sud lunedì 10 anche Teramo e l'Abruzzo quindi aderiranno per ribadire l'importanza di politiche lavorative e adeguate in particolare per la vallata del tubo i sindacati dopo la marcia di qualche mese fa continuano a difendere le maestranze del territorio Noi stiamo cercando di ricordare alla politica, al governo che soltanto nella nostra provincia dal prima del covid ad oggi abbiamo perso circa mille posti di lavoro nel settore industriale e alcune stime ci dicono almeno le nostre stime ritengono che se non si porta avanti una idea di paese che abbia in sé una strategia industriale degna di questo nome il rischio è che con la transizione perdiamo il 20% degli attuali addetti ai lavori è necessario anche ricordare e ribadire che non è uno sciopero contro questo governo perché ci mancherebbe altro non è uno sciopero politico è uno sciopero per portare avanti i temi delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici per ricordare appunto che purtroppo fino ad oggi non si sono fatte politiche industriali e ce ne rendiamo conto Importante è anche che l'area di crisi complessa ferma in Val di Brata venga allargata all'intera provincia di Teramo inoltre oggi la PCM che è allo stabilimento a Villa Zaccheo ha dovuto bloccare le produzioni a cause di alcuni sigilli messi al contatore in particolar modo questo sciopero nazionale ovviamente anche per altre vertenze ma noi riteniamo che sia specifico farlo per la Valle del Tubo rischiamo veramente di perdere un pezzo importantissimo della provincia di Teramo e se la politica non si sveglia nel 2030 inizierà la transizione quindi nel 2030 cominceremo a contare veramente i morti e i feriti riteniamo che in particolar modo lo dico da tempo che l'area di crisi complessa venga spostata in provincia di Teramo perché è fondamentale avere degli ammortizzatori sociali quando ci sarà la transizione noi abbiamo rimarcato tra l'altro una situazione che è accaduta proprio ieri che rientra anche con queste situazioni aziende sane che sono costrette a subire delle vessazioni per la burocrazia parlo della PCM a cui è stata ieri proprio messi i sigilli ai contatori dell'acqua perché aveva un insuluto di 600 euro con il ruzzo quando il ruzzo doveva dare 35 mila euro di storno alla PCM Spesso purtroppo gli anziani diventano vittime di truffe ma oggi si segna in un certo senso la riscossa della terza età perché 40 anziani diventano ufficialmente sentinelle antitruffe e il ruolo gli è stato conferito ufficialmente in prefettura a Campobasso Io penso che so molte cose sono diventata proprio una sentinella e cercherò di dire anche alle altre questo è ciò che io ho appreso La signora Maria Teresa Crapsi 80 anni è una delle 40 sentinelle antitruffa formate grazie ad un progetto che ha visto insieme il comune di Campobasso la prefettura l'università della terza età sette centri sociali per anziani oltre alle forze dell'ordine polizia carabinieri e guardia di finanza hanno aiutato le persone più fragili ma al tempo stesso più numerose nelle nostre comunità molisane ad affrontare i truffatori che approfittano della loro età delle loro condizioni economiche e della loro solitudine è un progetto assolutamente importante che investe un tema molto avvertito quello delle truffe alle anziani ed è importante in particolare in questo territorio dove l'incidenza delle persone anziane è più particolarmente elevata rispetto alla popolazione residente attraverso questa alleanza che si va a costruire tra istituzioni e cittadinanza si rinforza l'azione di prevenzione e di contrasto loro i diretti interessati hanno risposto con entusiasmo da oggi sono più informati attenti e pronti a divulgare insegnamenti e consigli appresi durante il corso ad altre possibili vittime di truffe e raggiri è stata proprio una bella esperienza perché l'ho riscontrato rispetto con la realtà sono truffe fatte anche ai giovani particolarmente per telefono oltre che fisicamente fisicamente più agli anziani ma per telefono anche ai giovani è stata un'esperienza veramente ottima devo dire sotto tutti i punti di vista perché va bene noi avevamo già delle idee su come dovevamo comportarci nei casi brutti però loro hanno ampliato queste idee ci hanno fatto capire come dovevamo come dobbiamo affrontare ecco una situazione brutta Regione Abruzzo protagonista di Missione Italia l'appuntamento annuale organizzato da Lanci per parlare quest'anno di PNRR nei comuni e nelle città cala il sipario su Missione Italia la due giorni di dialogo e fattiva collaborazione tra istituzioni sindaci ed esperti ANCI dedicata al PNRR protagonisti sul palco della plenaria i sindaci di Pescara Carlo Masci e dell'Aquila Pierluigi Biondi torno a casa molto rassicurato dal fatto che avremo un'interlocuzione fattiva con i ministeri dell'istruzione e delle infrastrutture dal cui dialogo dipende l'attuazione del piano così il sindaco di Pescara Carlo Masci nel corso del dibattito su sostenibilità e mobilità urbana che ha aperto la seconda giornata di Missione Italia alla nuvola di Roma a Pescara noi facciamo educazione ambientale nelle scuole per 20.000 ragazzi perché i fondi che stanno arrivando in Europa si chiamano Next Generation Youth quindi sono rivolti alla prossima generazione e invece le contestazioni arrivano dalla nostra generazione che non vuole le piste ciclabili che non vuole le corsie preferenziali che non vuole gli asili nido sotto casa perché casomai hanno un piccolo spazio dove poter stare in tranquillità e allora la rivoluzione dobbiamo attuarla concretamente facendo capire a tutti che ci troviamo in una fase emergenziale in cui i soldi che arrivano oggi non ci saranno domani per fare queste cose e le dobbiamo fare Masci ha fornito alcune indicazioni dei progetti di mobilità sostenibile che la sua amministrazione sta realizzando nel capoluogo pescarese tra questi una rete di 39 chilometri di piste ciclabili il doppio della media nazionale si è rapportata all'estensione della città contiamo entro il 2030 dichiara Tomasci di arrivare a 100 chilometri di ciclabili vale a dire un terzo di tutte le strade cittadine sta per tornare a Caprocotta dopo sei anni la festa più sentita dalla popolazione quella in onore della Madonna di Loreto la protettrice dei viaggi quindi dei transumanti la festa si tiene sempre nei giorni del 7 dell'8 e del 9 settembre quindi a cavallo della celebrazione della Natività di Maria e ci sono già gli organizzatori in fermento sentiamo Pasquale Damiani Dopo sei anni la festa della Madonna di Loreto tornerà a far felici tanti capracottesi che faranno ritorno ad ogni parte del mondo che cosa rappresenta per voi capracottesi questa festa? La Madonna per Capracotta è come una bussola è una bussola se uno pensa anche la Madonna dell'aeronautica agli avieri segna la rutta qui ha sempre segnato la rutta ai transumanti ma oggi rappresenta anche la cultura di un'intera comunità che si dà appuntamento ogni tre anni se uno pensa dietro la battuta sembra una battuta esce la Madonna quindi la Madonna che esce che fa il giro del paese che saluta le persone le infermi tutte queste questioni è un qualche cosa di incredibile per alcuni aspetti per questo dicevo una bussola che segna la rotta la traccia e ogni tre anni da ogni parte del mondo si torna è come il nord in una bussola vera è come la stella del sud questo è il discorso ed è una cosa molto molto importante per i caparacottesi anche perché gli stessi caparacottesi immettono in questa festa di comunità perché è di territoriale quindi di comunità tutti i propri valori ogni anno si riscopre qualche cosa di nuovo i caparacottesi ritornano all'immaginario dei bambini se uno pensa a Siena un bambino da grande vorrebbe guidare il cavallo per la propria contrata a Caparacotta io credo che non ci sia ragazzo o ragazza che da bambino non sogni di portare la Madonna sulle spalle in quei giorni con 185 voti per come daria Ada Adamo vince il premio strega nel romanzo la scrittrice abruzzese che è scomparsa il primo aprile scorso a solo i 55 anni racconta la sua esperienza nella malattia e nell'intenso rapporto di affetti con la figlia disabile a ritirare il premio il marito Alfredo Favi che commosso è riuscito a dire è un premio inaspettato e meritato quindi tanti complimenti a una donna davvero importante per la cultura abruzzese ma non solo di tutta Italia è il momento del meteo scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore previsioni del tempo di sabato 8 luglio un campo di alte pressioni abbraccia la regione Abruzzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque venti deboli mare poco mosso queste le temperature l'aquila minima 15 massima 32 gradi pescara 21-28 chieti 21-31 teramo 19-30 gradi sul Molise tempo variabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata salvo la presenza di qualche addensamento serale venti deboli mare da mosso a poco mosso campo basso minima 18 massima 32 gradi Isernia 22-33 termoli 21-30 venafro 23-35 gradi ed ora solo qualche istante di pausa non andate via perché tra poco ci rivediamo con la pagina sportiva ben trovati a tutti voi con l'informazione sportiva di tele regione in apertura subito parliamo dell'ultimo colpo di mercato messo a segno dal campo basso calcio è Alessio Rasi il nuovo difensore dei rosso-blu classe 1999 è nato a Roma ha sulcato i primi campi di serie di col Monterosi nella stagione 2017-2018 per lui due anni da titolare fisso nel girone G con 69 gare giocate un gol e due assist successivamente l'approdo tra i professionisti con le maglie di Albinoleff e Rieti nelle state del 2020 è stato acquistato dalla Vibonese sempre in serie C ha collezionato tre assist in 15 partite prima di approdare al Pescara nel girone B con gli Adriatici ha messo a referto 11 apparizioni e nella stagione appena conclusa Alessio Rasi ha difeso i colori del Roma City ha totalizzato 20 presenze e quattro gol appena ho saputo di questa possibilità non ho esitato le sue prime parole col direttore ci siamo messi d'accordo subito senza perdere tempo conosco la piazza so quanto calore c'è nella tifoseria ho visto la serietà del club e non è stato difficile accettare senza nemmeno pensarci quindi si è soffermato sugli avversari ci saranno delle belle squadre ma noi siamo il campo basso siamo chiamati a dare qualcosa in più rispetto appunto alle altre e andiamo nel dettaglio delle operazioni di mercato che Pino De Filippis il DS Rosso Blu sta cercando di completare dopo questo colpo ce le racconta Vincenzo Ciccone il campo basso si avvicina alla prossima stagione di Serie D con grande determinazione e la campagna acquisti portata avanti dal direttore sportivo Pino De Filippis si conferma di assoluto spessore il club del capologo di regione in particolare ha blindato con forza il reparto offensivo con gli innesti di Vincenzo Corvino 118 reti in 297 partite e del portoghese ex-matese Leo Abreu che vanno ad aggiungersi ai confermati Ripa e Lombari per fornire al tecnico Mosconi opzioni di rilievo nel novero del reparto degli attaccanti anche in difesa peraltro la formazione del suo blu si sta affidando a pedine importanti come l'argentino Manuel González Leonardo Nonni e Cristian Iorio queste giornate per il team saranno l'occasione anche di definire gli innesti under per puntellare il proprio organico e poi proiettarsi verso l'avvio del precampionato che tra le altre cose avrà un importante test il 9 agosto in quello che si chiamerà Avicor Stadium ossia Selvapiana con la sfida alla formazione di cadetteria dell'Ascoli tra gli ultimi banchi di prova per il club in vista di quello che sarà l'avvio di Coppa Italia prologo all'inizio della stagione fissato ufficialmente per domenica 3 settembre e prosegue la campagna acquisti anche della Energy Time Spec Davis Campobasso dopo gli innesti del regista Zanni dell'opposto venezuelano Zanettin la formazione del capologo di regione è particolarmente vicina al centrale Stefano Diana il giocatore è cresciuto dal tecnico dei campobassani Mariano Maniscalco nella scorsa stagione ha giocato ad Aversa in serie a tre Beach Volley grande affluenza grande successo per questa tappa gold dei campionati italiani che sta ospitando Monte Silvano che si concluderà domenica ne abbiamo parlato col presidente della FIPA Abruzzo Fabio Di Camillo che ha esaltato anche il valore dei giovani che stanno partecipando Fabio Di Camillo presidente della Feder Volley Abruzzo grande successo per questa nuova tappa dei campionati assoluti di Beach Volley Monte Silvano e l'Abruzzo si confermano la location ideale sì è un riconoscimento che ormai la federazione ci sta attribuendo da tre anni perché evidentemente abbiamo fatto un buon lavoro adesso il meglio deve ancora arrivare perché domenica abbiamo la finale di questa tappa gold che assegna addirittura la Coppa Italia con i migliori beach del settore sia femminile che maschile una manifestazione che significa sport ad altissimi livelli ma anche un indotto turistico importante indotto importante e poi grande spettacolo perché qui è veramente una location in cui i giovani al di là del momento agonistico si divertono stanno insieme ed è veramente un modo un linguaggio molto molto moderno la federazione italiana pallavolo sta investendo molto in questo settore ovviamente in Abruzzo senza il contributo decisivo della regione l'assessorato allo sport del comune di Montesilvano queste cose non sarebbero possibili perché il supporto che riceviamo dalle aziende come sponsorizzazioni è ancora relativo qualcuna ne dimostra una certa attenzione ma sicuramente quelle risorse lì non basterebbero una rete istituzionale che funziona qui sta funzionando abbiamo instaurato con la regione Abruzzo e con i vari comuni abbiamo fatto recentemente il collegiale della nazionale femminile a Lanciano l'anno scorso abbiamo fatto gli europei anche del under 20 a Vasto e a Montesilvano quindi abbiamo messo in piedi una bella sinergia Isernia è pronta a rivivere un'estate a tutto Beach con la Carmes dell'Urban Beach il torneo si svolgerà dal 13 al 31 luglio e avrà due tabelloni un torneo 2x2 per tesserati al maschile un 4x4 amatoriale misto con una presenza obbligatoria al femminile almeno come da tradizione peraltro all'interno dell'evento ci sarà spazio anche per un torneo di serie Beach 1 inserito nel calendario nazionale di questa disciplina e domenica c'è un appuntamento con la Mountain Bike ad Agnone a sede della terza Gran Fondo Atene del Sannio evento valido per il circuito sulle Orme dei Sanniti l'evento curato dalla Molise Cycling Team prevede un percorso di 46 km con un dislivello positivo di 1590 metri è tutto anche per la pagina sportiva vi ricordo che potete seguirci online attraverso il nostro sito teleregionetv.it oppure tramite canali social Instagram, Facebook e canale YouTube grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i programmi di Teleregione arrivederci Grazie a tutti